Vi chiedo una cortesia, condividete questo video. Abbiamo fatto richiesta come associazione al Sindaco, al responsabile Virgilio Monaco della Protezione Civile, al Presidente del Comitato Festeggiamenti, il Notaio Matano, e al Dirigente del Settore Sicurezza, il Dottor Franco De Rosa. Abbiamo chiesto di istituire un'area dedicata alle persone in carrozzella, diversamente abili, e di buon, di ottimo grado hanno preso in considerazione la nostra proposta. Quindi questa sera, annuncio a tutti, per la prima volta in assoluto, Dopo 3.000 anni verrà istituita un'area nei pressi del campanile, in pratica appena si salgono le scale venendo dal Duomo, sulla destra, ci sarà un'area transennata con le indicazioni per le persone diversamente abili, con l'accompagnatore a seguito. Io ci sarò questa sera, sarò vicino a quell'area, mi raccomando, vi raccomando, le persone che possono deambulare lasciano spazio a chi invece non può farlo. Cerchiamo di comportarci civilmente senza avere per forza le guardie armate addosso. E grazie veramente di aver preso in considerazione la nostra proposta. Ne faremo sempre per la città e grazie mille di averle prese in considerazione di nuovo.